Il Marocco è uno stato che si trova al nord dell'Africa e confina a est con l'Algeria, a sud con il Mauritania, a ovest con l'oceano atlantico e a nord con il mar Mediterraneo. In Marocco esistono due tipi di clima, il clima mediterraneo, ovvero sulle coste mediterranee, e il clima continentale che si trova al suo interno. L'economia del Marocco è basata sul turismo. A Marrakesh è possibile trovare i souk dei mercati tipici marocchini, che vendono spezie e artigianato vario. È possibile inoltre visitare le moschee, ovvero i luoghi di culto musulmani. In moschea si deve entrare con il capo coperto e i piedi scalzi. Inoltre gli uomini e le donne sono separati. Si deve pregare 5 volte al giorno. In Marocco ci sono delle bellissime osi, ovvero sorgenti d'acqua, in mezzo al deserto. Nelle osi si coltivano palme, cocchi e datteri. È inoltre possibile trovare una bellissima catena montiosa, ovvero la traco, che è molto carina da visitare. Ecco a voi alcune foto della mia esperienza in Marocco. Ecco a voi alcune foto della mia esperienza in Marocco.